Se voi vinceste un torneo di Fortnite da 3 milioni di euro, quale sarebbe la vostra reazione? Lui è Vincenzo, comunemente lo chiamano Vinks, ed è un mio caro amico. Si crede molto forte a giocare, ma in realtà non c'è uomo più scarso. Oggi ho deciso di trollarlo, facendogli credere di giocare un torneo di Fortnite da 3 milioni di euro. Dato che volevo un troll, fatto bene, un troll diciamo alla Crazy Mad, ho chiesto aiuto ai miei followers. Ho bisogno di voi raga, devo fare uno scherzo, un prank a un mio amico, dove gli faccio credere di giocare un torneo da 5 milioni di euro, tipo no, in un server privato. Ma mi serve gente che partecipa, voi siete online e soprattutto vi piacerebbe questo video. Il server per trollare è avviato, se volete comparire in un mio video ragazzuoli, la password è troll, t-r-o-l-l. Ragazzuoli, vi aspetta tutti nel server privato, in compia, riempi, let's go! Qualche minuto prima però, Vinks ha avuto un problema al PC, grazie a questa scusa. Senza che ovviamente lui se ne accorgisse, ho installato un programma spia che prendesse la sua webcam collegata al PC. Come sarà finita? Beh, guardate il video per scoprirlo. Vincenzo, Vincenzo, fra, ho trovato un torneo da 3 milioni di euro, sono stato imitato, non ci credo. Au, non scherzare. Fra, ti giuro, mi serve un compagno di duo. Oh, l'ho sbagliato in questo qua, vabbè. Ma sei serio? Sì, fra, ti giuro. Io sto cagando. Fra, 2 milioni di euro. Stavo guardando il tuo video, diventiamo ricchi se vinciamo, non ci credo. Bro, dai che tra un'ora inizia, ti aspetto. Ok, fra, 13 minuti arrivo, sono grande, speriamo di vincere. Dobbiamo fare il top 30. Diventiamo ricchi. Siamo pronti a vedere il video? No, non siamo pronti perché non avete inserito codice C-MED nel negozio oggetti. C-MED, taggatemi su Instagram, C-MED, così posso giocare con voi e farvi anche il provino. Detto questo, vi aspetto su Instagram, like, iscrizione e campanella per altri troll del genere. Forza, 15.000 like, prossimo troll, ma uno youtuber. Ragazzuoli, conto su di voi. Forza che si vola per i 500.000. Ragazzi, si sta sbogliando. Non so che lo stiamo sbogliando. Siamo in diretta su Instagram. Manca pochissimo, la gente sta... Si sta sbogliando. Non so... Non so, raga, che... Che è ripreso, raga, praticamente... Bellissimo, ragazzuoli, bellissimo. Oh mio Dio, si sta sbogliando. Ma... Si sta grattando. Si sta... Si stava grattando. Ma si sta grattando. Ma no. Ehi, aspetta, prima di continuare il video, devo salvarti la vita. Perché so che tantissimi di voi hanno un computer che non è dei migliori. E non supportano i vostri giochi preferiti. Cioè, i vostri computer non supportano i vostri giochi preferiti. Ecco perché interviene Boosteroid. Boosteroid è un software, un cloud, che vi permette di giocare ai vostri giochi preferiti anche da telefono. Cioè, regge Fortnite, lo regge anche da telefono qualsiasi. Perché è online, raga. Praticamente Boosteroid, avendo i server in Italia, vi consente di giocare ai vostri giochi preferiti sul vostro computer. Dal loro computer. Raga, è la salvezza. Veramente, dovete cliccare il primo link in descrizione e capire come funziona. È veramente semplicissimo. Andate a dare un'occhiata. Primo link in descrizione. Raga, ve lo consiglio. I vostri FPS aumenteranno da 60 a 100, a 200, 300, 400, quanto volete voi. Fidatevi che è la soluzione migliore per chi non può permettersi un computer da 2000 euro, raga. Con Boosteroid e la salvezza. Io l'ho provato e funziona. Detto questo, link in descrizione, anche per dare un'occhiata. Cliccateci. VINX, eccomi, scusami, zio. Sono tornato, bro. Ma quanto mi senti? Oh, sì, sì, sì. Sono tornato, bro. Dai, andiamo a vincere questi soldi. Sono stragato. Cresci e poi c'è. Ma, bravo, ma non ti vedo carico. Aspetta, scusa, mi stiamo giocando un torneo da 3 mila e da 3 milioni di euro. Sono strafetice, ma perché hai dato questa opportunità a me? Cioè. Bro, ma perché tu te lo meri, dai, bro. Ok, dai, dai. Dai, dai, dai. Bravo, quando sei carico. Come sei carico. Cresci, voglio dare a vincere, anzi, un minuto che... Parola che sento caldo, mi dai, mi metto un'utata. Un'utata. Cresci, ma io già mi compro una villa. Eh, vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Cioè, sono l'unico, forse, ad essere così, cioè, voglio una villa. Ti vedo un attimo esaltato, calma, dobbiamo vincere prima di avere una villa. Cioè, ho capito che già hai visto i 3 milioni, però. No, 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 Cresci, Cresci, una villa con tutta la GameMouse dentro. Sì, sì. Cresci, mi compro qualcuno che mi sponsoriti. Dai, 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 pensiamo a vincere il torneo prima di parlare, Vinks, eh, dai. Cresci, guarda, è un'opportunità bellissima. Eh, io, guarda, non so come proprio ringraziarti, perché... Ah, tranquillo, non ti preoccupare, per gli amici, per gli amici queste altre. Andiamo qua, Cresci, perché è un torneo, non voglio perdere, Cresci, ti prego, Cresci. Ah, stai calmo, eh, ho capito, sono 3 milioni, però, bro, eh, ci proviamo, che ti devo dire, ci proviamo. Chi arriva a top 30 si prende 2 milioni di euro. 3, 3, scusami, 3. Vai, 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 Vinks. Vai, Vinks, top 30, top 30, bro, top 30, ce la possiamo fare. Bro, l'hanno organizzato i Faze, sto torneo. Faze, è a 7 anni in vita. No, no, Cresci. Oh, oh, una ghilla fatta, Vinks, oddio, oddio. Forse abbiamo già vinto 10.000 euro con una kill. Tu, serio? Frasi, te lo giuro, bravo, te lo giuro. Con te, bro, ti preoccupare. Dai, Vinks, 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 ma 3 milioni di euro, li butti così, Dio santo, Vinks. 3 milioni di euro, bro, bro, dai, oh, killalo, killalo, vai, 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 cura, cura, mi cura, mi cura, mi cura, mi cura. Vabbè, vabbè, ma capisci che sono tutti questi qua, tutti, tutti, cioè tutti i fan, tutti i fan dei Faze sono, capito? Ce l'hanno fatto per i Faze. No, no, che tiri devi mutando, no! Fai, Fai, che tiri devi mutando. Mi metti i mutanti. No, Vinks, non c'è bisogno che ti metti, no, 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 bro, bro, ho capito, Vinks, Vinks, 30 milioni, Vinks, non perdiamo ora. No, che tiri, persone. Buona, 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 lo ha killato. E cosa? Forza, 30 milioni di euro, Vinks, c'è 3 milioni. Venti, ti è bloccato il gioco. Come si è bloccato il gioco, Vinks? Ti è bloccato il gioco, Vinks. Oh, oh. Vinks, lo ha killato, lo ha killato, Vinks. Raga, raga, praticamente non gli funziona più la webcam, però ora gliela tolgo. Bro, bro, allora, bro, dai, basta. Mi sembra che stiamo registrando un video, non lo so, ti sento alterato. No, no, Cressi, perché devi capire che sono 3 milioni di euro. Cioè, mi sistemi per, mi sistemi per tutta la vita. Bro, stai tranquillo. Bro, stai tranquillo, bro. Cioè, mi sembra che stai piangendo, no, no. Non è mutando, Cressi. Oh, ma stiamo registrando, è tutto alterato. Bro, non stiamo registrando un video, eh. Cressi, oggi è il giorno più bello della mia vita oggi. Bro, vai tranquillo, bro. Io ci tengo a far vincere i miei amici a questi tornei qua. Vai tranquillo, vai, andiamo. No, 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 no. Io non vorrei dire. Speriamo che siamo top 30, bro. No, no, Cressi, io lo spero. Dai, siamo 43 persone, dai, 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 dai. Tu devi capire che mi prendo la villa, Cressi. Eh, vabbè, ho capito che ti prendi la villa, Vinks. E puoi venire a stare con me, Cressi, con Alice. Eh, eh, ti invito. Addirittura. Eh, bro. Ah. Ti prendo la villa, la villa dei VIP, bro. La villa dei VIP. Con i 3 milioni di euro. Bro, ma è ovvio, pure la Ferrari, all'Hamborghini Cagliela, all'Hamborghini. All'Hamborghini, sì, ho capito. La Usheran, la Usheran. Ah, sì, 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 sì. Come si chiama? Sì, sì. Eh, vabbè, eh, vabbè, vabbè. Vedi quando parli, Vinks. Vedi quando parli, Vinks. Vieni, vieni. È stata la benzina. A benzina di Lamborghini, vieni. Vieni. Veloce, veloce, veloce. Veloce. Vedi, hai cure. Spero che hai cure per me, eh. Persone che... 21, 21, doppio 21. Andiamo, andiamo. La vinciamo, la vinciamo, Vinks. Non avere problemi, bro. Non avere problemi. Ma perché non hai chiamato altre persone, altre persone magari più forte di me a giocare con te? Dai, io sono felicissimo, però... 22, 1! Oh, no! 22, 1! Vai, che ce la fai, Vinks! Oh, bro! Se ne killiamo altri sei, siamo top 30! Ditto che sono concentrato! Se ne killiamo, killiamo le sei! 5! 5, siamo top 30! 5, siamo top 30, bro! Quanto siamo top 30? Che ecco! È piacchissimo! È un limone! Let's go! Let's go! Let's go! Calma, calma, ma altri tre ne mancano. Vai, andiamo così, andiamo così, Vinks. Forza così, bro! Altri qua! Altri qua! Altri qua, bro! Le granate, Gretzi! La, la, la! Personelli! Bro, ne mancano tre, ne mancano tre per essere top 30! Per essere top 30, sì! Aiuto, aiuto! Quanto vinciamo? Vai! 3 milioni se arriviamo top 30! Ah, seriamente? Sì, 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 sì! Ma qua vinciamo pure, Gretzi! 30! 30! 30! 30! 30! 30 minuto! 3 milioni! 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 E' impazzito, raga! Appena, appena erano tre milioni, è impazzito! E' impazzito, è finito! L'abbiamo perso! Vincere! Bro! Bro! Ma cosa fai, sei vestito? Ah, ma ho vinto 3 milioni! 3 milioni! 3 milioni! 3 milioni! A sua madre! 3 milioni! Ma cosa fa? Ma... Ma cosa fa? E' impazzito! Ma è partita la safe! Ma è partita la safe! E' impazzito! È partita la safe! Oh! La safe! Vabbè! La safe! Vabbè, in un torneo lui abbandona, raga! E' che? Bro! La safe! È partita la safe! Vai! Fai una rampa! Ho la jump! Ho la jump! Fai una rampa! Fai la rampa! C'è la ruota della sedia in mano! Non posso mettere la jump! E io nemmeno che si non è banderati! Ma non abbiamo massimo! Ma bro! Un torneo da 3 milioni di euro! Non giochi così! Ti scleri! Te ne vai! Ho capito che hai vinto! Però bro! Sì, ma credi! C'è la ruota della sedia nelle mani! Sì, ma c'è ancora il primo posto bro! Cioè, dai! Sai che 10 milioni di euro! No bro! Per me abbiamo vinto eh! Come abbiamo vinto perché? Tieni le cure! Ah, non piacciono! Non piacciono la foto su un contatto con la ruota della sedia in mano! Non piacciono le cure! Ma che me ne frega! Eh bro! Che ho rotto la sedia! Lo sai che la vittoria reale sono 10 milioni di euro, vero? Vero? Sì! No vabbè, scherzando? Trasso sto scherzando! Ma ti pare che scherziano? 10 milioni! Vabbè! No divento un ricco! Eh lo so! Eh ma tu sei tutti i tuoi so! 5 milioni a testa eh! Lo so, lo so! Dai abbiamo vinto 3 milioni! Abbiamo vinto 3 milioni! Fra! Abbiamo vinto 3 milioni! Cazzo! No! No! Eh cazzo! No! 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 Vix, ho capito che abbiamo vinto 3 milioni! Però stai calmo eh bro! 3 milioni di euro bro! Pronto? Daglie! Sono capito che non ho capito! Eh bro! Non capisco! Non puoi capire bro! Cosa ci fai bro? Io non ho capito! Che cosa ti faccio? Intanto accendi il condizionatore e chi se ne fregate alla luce! Chi se ne frega i fatti bro! Chi se ne frega! Ormai sei ricco bro! Se ne frega bro! Ti conviene te ne compri mille! Perché non lo spacchi! Ha spaccato già la ruota della sedia! Tanto te ne compri mille bro! A quanti soldi faranno? Ma già l'ho rotta! E quello è il problema! Vabbè ora te ne compri altri 10 no? Vabbè fra mi compro la ditta! Eh! Mi dicevo nella poste pay! Eh! Iban con... Mi fanno il coso! L'Iban? Eh sì fra! 3 milioni di euro! Vabbè fra facciamo 1,5 a testa! Sì 1,5 a testa facciamo! Quindi apposta! Faccio una cosa! Mi riprendo tutti io 3 milioni? Come deve prendere tutti i 3 milioni? No 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 Vincs! C'è un'altra cosa che devi sapere Vincs! Prima di prendere i 3 milioni! No 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 che assegno! Vai un attimo sul... Sulle storie Instagram! Ma già ti sono arrivati? Vai un attimo sulle storie Instagram! Sì già ti sono arrivati i 3 milioni! E tu facci bro! E poi vedi bro! Guarda che figata bro! Beh c'è... Veramente! Il server per trollare! Coppia l'ingai! Se volete comparire in un mio video ragazzuoli! La password è troll! Aspetta ma quanti minuti fa è stato? 40! Eh sì! Eh sì! Ho fatto ancora direttamente! Ragazzuoli vi aspetta tutti il server privato! Coppia rienti! Scusa una cosa Chris ma questo è un server privato! Vabbè sì! Un sacco di torrii se non è un server privato! Eh scusa per questo c'è occhio! Scusa perché hai fatto troll! Password troll! Coppia rienti! Cresi! Eh però la cosa più bella! Non è... Hai fatto spaccare una segna! Non è che ti ho trollato bro! La cosa più bella non è che ti ho trollato! È che... Se vai su... E ci vieni tutti! No 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 no! Ho mandato la foto su Google! No 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 no! Vai su... Se vai su Google ok? E cerchi questa cosa? Ti vedi tu! Cerca questo link tieni! Te lo do! Vacci cliccaci! Guarda che si vede! No! Sì com'hai fatto? Eh bro grazie a sto programma io posso prenderti la tua webcam mentre non hai niente aperto! Cresi! E quindi per tutto sto tempo io ti vedevo! Tu che ti grattavi non so cosa! Bellissimo bro! Penso sia il troll più bello della mia vita! Ragazzoni se questo video vi è piaciuto mettete un like! Codice ci mette nel negozio oggetti! Ha spaccato la... Talmate tutto! Ho fatto la faccia! Talmate tutto! Io ho posto! Mamma mia! Che vantaggio! Come vieni! No no Gretti io ti manco la faccia bro! È un pezzo di m***a sei! Oh mio Dio! No Gretti mi hai fatto spaccare la sedia! Cioè come mini web? Cioè fai schifo non me l'aspettavo! No no no! No no no! No no no! Chiude il video! Bella raga! Ciao 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 ciao!